Per quanto riguarda gli affitti, tutta la normativa, tutta la cosa e la formulazione delle proposte da portare avanti, sia per quanto riguarda i studenti universitari, sia per quanto riguarda i cittadini comuni che comunque hanno bisogno o hanno dei trattamenti particolari sul fatto degli affitti. La seconda è una comunicazione, sembra che il 31 all'interno del centro storico faremo una manifestazione che dice riprendiamoci la città, articolata con spettacoli... No, però tu eri quella che inizialmente aveva proposto una cosa di queste. Non avrei mai proposto il 31 luglio però. Vabbè, il 31 luglio però è perché è a cavallo dell'andata e del ritorno, ma così è stato... E quindi facciamo le manifestazioni musicali con esposizioni di prodotti nelle varie piacce del centro storico e possiamo inserire anche quello che ha detto la signora Laia per quanto riguarda alcuni posti particolari, alcuni posti particolari...